Ciao a tutti! Perché le donne tradiscono? 5 cause comuni. Allora, vediamo perché le donne tradiscono. Ma prima, iscriviti al canale e seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Perché le donne tradiscono? No, ci sono diversi motivi. Il primo motivo, dobbiamo dirlo, è per amore. Per amore di un'altra persona, non per amore del compagno e del marito. Cioè, si innamorano di un altro. E' ovvio che se l'innamoramento avviene da parte di un'altra persona, c'è qualcosa, diciamo, nella relazione che non va più tanto. Di solito succede o nelle relazioni che sono diventate un sodalizio d'amore, cioè una relazione a lungo termine che ha perso la passionalità, ha perso l'emotività. Quindi il sodalizio d'amore è una relazione che non ha più passione e non ha più, diciamo, sì, fondamentalmente è venuta meno la parte passionale, la parte fisica, insomma. E rimane soltanto una parte legata agli impegni reciproci, insomma, magari c'è anche un po' di affettività, ma tutta la passionalità, il desiderio di vedere, di baciare una persona finisce. Quindi è probabile che ci si innamori anche di un'altra persona incontrando, e quindi questo è il primo motivo per cui una donna tradisce. Per amore, si innamora di un'altra persona. Poi può essere dovuto, diciamo, al fatto che percepisce i propri compagni, possiamo dire, passivi. Cioè, che non dimostrano, come dire, nei suoi confronti quell'interesse che dimostravano una volta. Cioè, la vedono un po' come se fosse, sì, magari fanno l'amore così, ma senza trasporto, senza... L'hanno perso, non la corteggiano più, non la lasciano, la trascurano da un certo punto di vista. E quindi è facile, diciamo, anche qua, non per amore, ma proprio per ricevere attenzioni che non le vengono più date dal compagno o dal marito. E quindi si lasciano tranquillamente andare, insomma, per... Causa la percezione di un compagno che è diventato passivo nei suoi confronti. Non ha più verve, non dà più quegli stimoli che una volta dava. Un altro motivo è la vendetta. La vendetta per aver scoperto un tradimento del marito o del compagno. Un tradimento che non hanno mai digerito, per aver scoperto che il compagno o il marito tradisce, per aver scoperto questa cosa qua, loro tendono, diciamo così, a vendicarsi. E quindi il tradimento lo fanno non tanto perché sono interessati, diciamo, all'altra persona, come persona, ma diventa uno strumento per fargliela pagare al marito. Fondamentalmente è questo il discorso. Quindi questo è un altro motivo che è abbastanza frequente. Un altro motivo abbastanza comune, che però non sembra, diciamo, uno apparentemente non lo prende in considerazione, è perché diventano madri. Quando una donna diventa madre di uno o due figli, inizialmente magari si lascia un po' andare, anche diventa un po' talvolta in sovrappeso, insomma, si lascia un pochino andare, e però c'è da tenere presente che il fatto che diventa madre inizia a vedere anche lei, il suo compagno, un po' come un amico, come... e la sua femminilità viene castrata, insomma. Quindi un modo per rivitalizzare, per ritornare, diciamo così, a sentirsi femmina è quello di tradire. In questo caso spesso cerca il toy boy, uomini un po' più giovani, proprio che le possano ridare, diciamo, questa, questa, diciamo, femminilità, la facciano sentire di nuovo femminile, femmina. E un'altra motivazione abbastanza comune, non è così frequente questa, è per fare qualcosa di diverso, per un'esigenza trasgressiva, per rompere la noia, insomma, per evadere, evadere un po' dalla realtà, evadere un po', insomma, farsi due ore di evasione. Evasione dal tran tran quotidiano, col marito va tutto bene, col compagno va tutto bene, in famiglia tutto a posto, però poi la vita diventa un po' noiosa, non c'è mai niente di nuovo, non c'è mai l'adrenalina, non scorre tanto. E allora il tradimento, in questo caso, è un modo per far scorrere l'adrenalina, fare viversi anche un pochino di sensi di colpo, un po' di cose di questo genere, che fanno sì che rivitalizzino un pochettino la situazione, rivitalizzino un po' la relazione. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti anche al mio nuovo canale, Felicità, Benessere, che è questo canale, di cui, vabbè, ti posto anche il link comunque. Ciao a tutti!